Ciao a tutti! La lezione che vi propongo oggi è di grammatica francese e suddivisa in tre parti in quanto c'è tanto da dire su questo argomento. Vi parlerò infatti dell'indicativo presente dei verbi di terzo gruppo. Questi verbi si suddividono in tre gruppi principali. Abbiamo i verbi che terminano in IR, OIR, RE e poi abbiamo dei sottogruppi con le seguenti desinenze all'infinito DRE, TRE, AITRE e così via. Questi verbi non seguono uno schema preciso, sono infatti verbi irregolari, incluso il verbo ALLE, ANDARE, che pur terminando in ER si comporta come verbo irregolare. Ora, per coniugare questi verbi occorre memorizzare i paradigmi di ciascun verbo. Sia le radici che le desinenze di questi verbi spesso si modificano e sono diverse ed è proprio questa la difficoltà che si trova nel momento in cui dobbiamo memorizzare questi verbi. Oggi vediamo i verbi in IR. Sono verbi che troviamo già per quanto riguarda il secondo gruppo, ad esempio finir, choisir, sono verbi di secondo gruppo, quindi regolari, che hanno le desinenze IS, IS, IT, ISS, ISETS, ISENT. Mentre, come già vi ho accennato, i verbi di terzo gruppo sono irregolari e spesso hanno una o più radici e diverse desinenze. Ma adesso vediamo i verbi di terzo gruppo che terminano in IR. Questi verbi sono suddivisi a loro volta in tre sottogruppi. Vediamo il primo sottogruppo. Per questa categoria bisogna utilizzare le seguenti desinenze S, ST, ONS, EZ, ENT. Quindi le tre persone plurali si coniugano come i verbi di primo gruppo, i verbi irregolari. Bisogna memorizzare solamente le desinenze delle prime tre persone singolari, cioè S, S, T. Ad esempio il verbo PARTIR si coniugherà nel seguente modo. JE PAR, TU PAR, IL, ELLE PAR, NOU PARTON, VOU PARTE, IL, ELLE PARTE. Cosa notiamo? Abbiamo due radici. La prima è PAR e si trova nelle prime tre persone singolari e la seconda è PAR e sarebbe la radice dell'infinito che si ottiene togliendo la desinenza IR e si trova nelle tre persone plurali. Oltre a PARTIR, altri verbi che fanno parte di questo sottogruppo sono DORMIR, SERVIR, SENTIR, SORTIR, MONTIR e altri verbi. Vediamo adesso come si comporta il secondo sottogruppo dei verbi in IR. Vengono mantenute le desinenze S, S, T, ONS, EZ, ENT, ma abbiamo ben tre radici. Facciamo subito un esempio. Prendiamo il verbo TENIR. JE TIEN, TU TIEN, IL, ELLE TIEN, NOU TENON, VOU TENE, IL, ELLE TIENNE. Le desinenze sono sempre S, S e T, ONS, EZ, ENT, ma a cambiare sono però le radici. Ne abbiamo tre diverse. Nelle prime tre persone del singolare viene usata la radice TIENNE. Nelle prime due persone del plurale viene usata la radice TEN e infine nella terza persona plurale viene usata la radice TIENNE. Quindi la radice dell'infinito senza la desinenza IR sarà mantenuta solamente alla prima e alla seconda persona plurale. I verbi che si comportano in questo modo sono VENIR e i suoi derivati ad esempio SUSOUVENIR, PREVENIR, CONVENIR, DEVENIR e TENIR e i suoi derivati come MANTENIR, SUTENIR, DETENIR, APPARTENIR. Ma vediamo adesso il terzo ed ultimo sottogruppo dei verbi in IR. Questo terzo sottogruppo segue le regole dei verbi di primo gruppo che terminano in ER e le sue desinenze quindi E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Inoltre la radice è unica e si ricava dall'infinito togliendo la desinenza IR. Prendiamo il verbo OFFRIR, J'OFFRE, TU OFFRES, IL E L'OFFRE, NUS OFFRON, VUS OFFRES, IL EZ OFFRES e assumendo questo sottogruppo ha la stessa radice per tutte le persone. Questa radice si ricava togliendo la desinenza IR dall'infinito del verbo e le desinenze sono quelle usate per i verbi di primo gruppo, quindi i verbi in ER. Altri verbi che si comportano in questo modo sono OVRIR e i suoi derivati, ad esempio DECUVRIR, poi abbiamo SUFFRIR, CUIHIR e i suoi derivati come ACCUEHIR, RECUEHIR, eccetera. Bene, anche oggi la nostra lezione termina qui. Se cliccate in alto a destra trovate il link relativo alla seconda parte dei verbi di terzo gruppo. Mi raccomando, continuate a seguirmi. Se avete delle richieste particolari su qualche lezione sulla quale volete degli approfondimenti, dei chiarimenti, non esitate a commentare. Alla prossima lezione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!